Milanese, Lombarda, oggi si apre la Bocconi in un momento fondamentale di crisi e dopo delle proteste anche. Le proteste sono più che altro sul paese, su tematiche più generali. La Bocconi è innegabile, è un punto di eccellenza non solo del territorio milanese, della Lombardia, ma dell'Italia. Non vi ha dubbio che vi è una eccellenza non solo nel corpo docente, non solo nell'organizzazione dell'università, ma anche nel valore medio degli studenti perché l'attrattività di Bocconi, e mi diceva il nuovo rettore, anche della città stessa che gioca positivamente in questo senso, sono attrattività importanti a livello di tanti studenti che anche dal mondo vengono. Molti studenti bocconiani vanno verso l'estero e nello stesso momento vi sono scambi non solo da paesi emergenti, ma anche da paesi europei che hanno le stesse eccellenze come Francia, Germania e Inghilterra. E meno male che c'è questa serietà di lavoro che sta dietro a questa grande università. Grazie a tutti.